Finisce l'attesa al freddo per centinaia di migranti ai domeni. La Repubblica di Macedonia ha riaperto la frontiera con la Grecia, chiusa martedì sera. 2000 persone erano rimaste bloccate e costrette ad aspettare in tende riscaldate o sugli autobus con i quali erano arrivate da Atene. La condizione per ottenere il lascia passare è dire di essere diretti in Austria o in Germania. A novembre il paese aveva già deciso di far passare soltanto chi fugge dai conflitti. Giovedì pomeriggio sono entrati i primi 400 migranti. È difficile, ma sappiamo che possiamo andare in Germania o in Austria, che non c'è problema. Adesso aspettiamo di ricevere il documento per poter andare in Austria. Anche Croazia e Serbia intendono far passare soltanto chi dichiara di andare in Austria o in Germania dopo che Svezia e Danimarca hanno ristretto l'accesso al proprio territorio. Mentre Vienna ha stabilito un tetto al numero di profughi che accetterà quest'anno, 37.500.